Quantità eccessive di tetracloroetilene nelle forniture idriche a Benevento scatta lo stop temporaneo all'utilizzo di acqua potabile. Lo ha stabilito un'ordinanza firmata nella serata di ieri dal sindaco Clemente Mastella. La sostanza nociva è presente in quantità superiori alla norma nei pozzi di Pezzapiana che riforniscono gran parte della città. Da qui la decisione di vietare l'utilizzo di acqua potabile nemmeno dopo l'abbollitura per i cittadini di diverse zone del capologo Sannita, una grossa parte. Il divieto riguarda in particolare i rioni Libertà, Ferrovia, Trigio, Santa Maria degli Angeli e Ponticelli, ma anche Centro Storico, Corso Garibaldi, le varie traverse fino a Piazza Guerrazzi, le contrade di San Vito, Pezzapiana, San Marco, San Chirico, Acqua Fredda, Ripua Morta, Ripa Zecca, Torre Alfieri, Ciancelle, Serretelle, Gran Potenza, Madonna della Salute, Monte Calvo e le zone di Epitaffio, Montepino e via Castelponto. L'adozione del provvedimento si è resa necessaria a seguito di una comunicazione dell'asile di Benevento trasmessa all'amministrazione. Il sindaco ha demandato alla Gesesa di adottare ogni strumento per garantire alle zone della città interessata dall'ordinanza la disponibilità della risorsa idrica per uso potabile. La società Gesesa, d'accanto suo, precisa che la centrale di Pezzapiana è stata spenta. Nella giornata di oggi sono state posizionate delle autobotti di acqua ad uso potabile, in particolare per la zona del rione Libertà, un servizio sarà posto presso piazza San Modesto, un secondo presidio per rione Ferrovia sarà collocato presso il piazzale antistante di Pala 2 e tra qualche ora una terza botte sarà posta presso zona centro commerciale Buonvento.